Nella periferia di Milano, tra i quartieri più veri, là, dove ogni giorno la vita è una battaglia, a inizio, broken. Io ti ho aspettato, Pierci. Due ore che sono qui ad aspettare. Lavoro fino alle 10.30. Ogni giorno, da sempre. Io penso che adesso siamo arrivati a... Quale? Lui e lei, tra amore e litigi. Ragazzi, scusate, avete visto una ragazza con il cappello rosso passare di qua prima? Ragazzi, scusate. Dove? Milano! Grazie, grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti